Iniziamo questo ricordo di Piero con il suo biglietto da visita, il suo biglietto da visita quando ormai era andato in pensione, che è messo con questa foto in microscopia elettronica di questo gruppo simpatico di Briozoi, che sembra avere un paio di occhietti, una bocca o un naso, dopo cercheremo di capire in realtà cosa sono, e che dicono che Briozoi ci studia Piero Braga. In realtà sarebbe un pochettino riduttivo parlare di Giappietro Braga pensandolo soltanto come studioso di Briozoi, perché ha fatto ricerche di grande importanza dal punto di vista della cartografia geologica, basta pensare a quelle fatte in Friuli, sulle Vete Feltrine o sulla Pedemontana Veneta. E diciamo si è occupato di un po' tutti i temi relativi alla geologia e ha dato un notevole impulso anche agli studi successivi. Vediamo invece, non ci concentreremo sostanzialmente sui Briozoi, ci concentreremo sui Briozoi ricordando che nel 2007 al convegno negli Stati Uniti dell'Associazione Internazionale dei Briozologi, associazione che Piero Braga era stato tra i fondatori, si festeggiavano in quel convegno 50 anni di studi sui Briozoi di Piero Braga. Si festeggiavano i 50 anni e subito dopo uscirà un Atlante, la cui prima pagina è quella che qua vedete, che è un pochettino la conclusione o comunque il fare il punto sulle conoscenze dei Briozoi del Veneto e del Trentino. Briozoi che dalla fine dell'Ottocento fino agli studi di Braga erano rimasti un pochettino in un limbo, in un limbo dove tutti sapevano che c'erano, tutti sapevano che avevano una certa importanza o che avrebbero dovuto avere una certa importanza, però nessuno si era applicato per farli uscire da quel limbo e farli ritornare di nuovo dei protagonisti degli studi non solo della paleontologia ma anche delle faune attuali. Se il primo studio di Piero è del luglio del 57 e la sua tesi di laurea, in realtà il primo grosso contributo è del 63 ed è legato alla nascente Società Paleontologica Italiana. E il secondo volume che la Società Paleontologica Italiana pubblica quando oramai iniziava a svilupparsi e su questo volume c'è questo lavoro importante di Piero sui Briozoide Terziario Veneto. Guardiamo un attimo le immagini. Sono immagini fatte con il microscopio ottico perché siamo in anni in cui microscopia elettronica non esisteva. Sono immagini in cui bisognava avere una forte anche dedizione e attenzione per riuscire a mettere a nudo, a riuscire a mettere in chiaro gli elementi fondamentali di questi organismi che non erano facili da fotografare perché siamo a livello dei microfossili e non solo sono difficili da studiare ma sono difficili anche da poi fare degli studi che permettano a chi viene dopo di capire e di potersi inserire. Perché essendo microfossili il studio dei Briozoi inizia proprio da uno studio in campagna dove si prende la serie stratigrafica strato per strato qui purtroppo non avevo la foto della serie di Panone e strato per strato si prendono i capioni che poi devono venire trattati quelli che in termine tecnico si chiamano i lavati che sono dei campioni di estremo interesse perché strato per strato, momento per momento è come avere lo studio o la fotografia di una località in questo caso nell'arco di circa 500.000 anni e io ho livello per livello che mi dice quello che è cambiato come sono cambiati gli organismi e come si sono adattati ai cambiamenti in atto avere in uno museo la collezione di tutti i lavati significa non solo avere a disposizione la base su cui è stato fatto lo studio dei Briozoi nel nostro caso ma avere anche a disposizione il materiale su cui poter verificare in seguito quali foraminiferi, quali ostracodi, quali altri organismi c'erano in quel sedimento insieme ai Briozoi cioè significa poter avere la memoria storica di un luogo che spesso, come in questo caso, è un luogo che non esiste più così come erano l'area di Possagno così come erano molte altre aree che sono state studiate sia da Noscia che da Braga e di cui i lavati oggi sono qua al Museo di Storia Naturale e Piero si lamentava sempre che quando era andato a Vienna per vedere la collezione Royce non esistevano più i lavati e perciò lui ha potuto vedere solo quel poco che c'era e ha impiegato anni per riuscire a risalire a dove Royce aveva campionato nell'Ottocento e perciò per vedere anche il contesto in cui questi organismi si erano sviluppati ed evoluti beh, vediamo questi organismi innanzitutto sono organismi strani perché sono organismi coloniali sono gli unici organismi coloniali ad anatomia complessa che sono sopravvissuti fino ad oggi nella storia della vita della Terra più volte ci sono stati organismi coloniali che hanno avuto periodi più o meno va bene, felici ma solo i biozoi sono riusciti ad essere presenti per un periodo lunghissimo parlo di anatomia complessa perciò non confronto con i coralli i coralli sono organismi coloniali però con un'anatomia di tipo semplice i biozoi sono tipicamente stenualini cioè preferiscono le acque con una salinità tra i 32 e i 37 per mille però in realtà li troviamo anche a oltre preferiscono temperature tra i 10 e i 30 gradi però li possiamo trovare anche delle acque abissali a oltre 6.000 metri di profondità con temperature ben diverse preferiscono la zona fotica ma li troviamo anche a oltre nelle due immagini che vedete quello alla vostra sinistra è un biozoo fossile una tubicella papillosa che viene arborescente quello alla vostra destra invece è un biozoo attuale dove si vede bene i tentacoli che escono perché i biozoi sono predatori predatori bentonici predatori perciò di plankton ma hanno devono avere un sistema per poter estroflettere o riportare all'interno i loro tentacoli sono predatori ma sono anche predati la loro evoluzione inizia grosso lanamente con la fine del Cambriano li conosciamo almeno molto bene dall'Ordoviciano in Italia sono presenti dall'Ordoviciano fino ai mari attuali e per quanto sia lo si sappia in pochi nella collezione del museo di Rovereto è la collezione più completa di biozoi che ci sia senza altro in Italia e forse anche all'estero abbiamo i biozoi dell'Ordoviciano della Carnia abbiamo i biozoi dell'Ordoviciano della Sardegna e così via via fino a trovare i biozoi del nostro Adriatico del nostro Tireno cioè i biozoi che vivono oggi e una delle cose che magari colpisce subito guardando questi organismi è che essendo organismi coloniali e in ambienti simili tendono a costruire colonie simili alla vostra destra c'è una colonia reticella del Carbonifero della Carnia ci sono bellissimi esemplari nelle nostre collezioni che è di una linea evolutiva di biozoi completamente diversa di quelle attuali mentre il rettepo di forme alla vostra sinistra è stato preso fotografato a largo di Ustica cioè è una forma attuale tra le due forme c'è la stessa distanza diciamo sistematica che c'è tra me e cosa potrei dire una tartaruga per cui però essendo a forme coloniali in ambienti simili danno origine a colonie simili e questo come si svilupperà dopo è di un'enorme importanza per ricostruire gli ambienti dicevo prima i biozoi si sviluppano un pochettino in tutti gli ambienti nelle collezioni qua del museo abbiamo i biozoi dell'ambiente lagunare che vengono da Montecchio da Pria Bona abbiamo i biozoi che vengono da acque via più aperte fino al limite del termoclino al limite della zona fotica e poi i biozoi di ambiente più profondo perciò di diverse battimetrie sono organismi molto delicati per quanto riguarda l'idrodinamismo delle acque e per quanto riguarda il depositarsi dei sedimenti tant'è vero che con la loro evoluzione hanno trovato tutta una serie di sistemi per difendersi e per riuscire a vivere anche in ambienti dove la sedimetologia è abbastanza sostenuta l'idrodinamismo è forte oggi sopravvivono soprattutto i biozoi ciclostomata che sono mantengono ancora le forme primitive di un tempo erano molto diffusi nel paleozoico hanno subito un forte dimensionamento con la crisi di vita della fine del Permiano e poi man mano si sono diciamo rievoluti oggi ci sono forme massicce come quelle in basso oppure forme arbolescenti e sono molto diffuse nelle oceane del Veneto e del Trentino per esempio nella zona di Panone se ne sono se non vado erato un 22 25 specie diverse insomma che si sono utilizzate gli altri sono i biozoi che lo stomata di cui è incerta l'origine in un paio di occasioni con Piero credevamo di aver trovato qualcosa che potesse essere alla loro origine nel Trias però sono stati tutti i tentativi poi falliti perché in realtà non ne abbiamo trovati sono biozoi a forma di piastrelline che però hanno un'altissima specializzazione le colonie hanno elementi specializzati sia nella difesa e nella colonia che diciamo in altre attività si dividono uno degli elementi più classici per la difesa delle colonie sono le cosiddette avicolarie che nei nostri fossili restano come qui segnetti ai due lati dell'apertura principale sarebbero nella foto iniziale le orecchiette del briozoo che sono in realtà strutture a becco d'uccello che servono per portavia sedimenti o parassiti dalla colonia cioè per difendere la colonia sono organismi che si sono sviluppati all'interno come elementi di difesa per cui fondamentali insomma per la colonia stessa accanto ad altre strutture che hanno in genere dividiamo lo stomato in due grandi gruppi gli anasca che hanno come si vede da qua una parte membranosa cioè se guardate la figura in alto c'è come una membrana dove la muscolatura facendo muovere la membrana riesce a regolare il flusso di acque e a regolare i movimenti dei tentacoli perciò fare uscire i tentacoli diventare un predatore attivo quando la situazione è favorevole far rientrare i tentacoli entrare in protezione quando la situazione è sfavorevole però questi biozoi hanno un problema cioè la questa situazione membranosa è anche un elemento di pericolo un elemento dove eventuali predatori possono intervenire per cui col tempo si sviluppano soprattutto nei biozoi a scopora che hanno praticamente una membrana invece calcificata con un sistema a sacco più complesso che permette di regolare i movimenti dei tentacoli i movimenti interni ma che dà anche una notevole protezione nel caso della nostra figura iniziale la bocca del nostro biozoo era proprio sostanzialmente questo particolare elemento che permette di regolare il flusso d'acqua e perciò permette al biozoio di essere attivo o di rientrare in posizione difensiva col 79 ma sarà poi approfondito in seguito i dati sui biozoi ormai del Veneto e del Trentino sono maturi per iniziare a parlare dei biozoi come indicatori ambientali si inizia a suddividere gli ingruppi e si inizia il loro utilizzo come indicatori ambientali che avrà poi un crescendo di interesse e di studi come verrà dopo esposto sempre per i biozoi intorno a Roveto diceva prima la Fabiana sono stati fatti delle scoperte interessanti in modo particolare tre nuove specie la Dictasipora Pannonensis di cui vi faccio osservare solo due cose se riuscite a vederle queste due correttette qua che altro non sono che le solite piccolari che difendono la colonia da eventuali predatori o da sedimenti l'altra nuova specie e la retteporella Tamanini dedicata doverosamente a Tamanini per tutti i suoi trascorsi diciamo all'interno della società e del museo di storia il museo civico di Roveto cosa c'è qua ho perso un'immagine non importa scompare ma scompare subito va bene non importa l'immagine era un'immagine che faceva vedere un attimo un'altra cosa importante scoperta è che c'è stato un flusso di questi bratoi sono oggi non più presenti alcuni di questi generi nei nostri mari perché sono migrati prima attraverso l'oceano indiano poi hanno colonizzato le coste del Giappone le coste dell'Australia fino ad arrivare a colonizzare le coste del Sudafrica cioè abbiamo avuto una migrazione inversa verso diciamo verso l'Oriente ma veniamo visto che che l'onoropsis roveretana che quando è stata quando sono stati visti i primi esemplari si si capireo che anche franco sono rimasti tutti meravigliati perché era qualcosa di strano cioè aveva una parte che sembrava un briozolo ciclostomata tipico di ciclostomata e diciamo la parte dorsale e l'altra quella attiva che invece era un chelostomata da cui il nome un pochettino strano che è l'orneropsis perché l'orneropsis l'ornera è il tipo di briozolo a cui somigliava valeva la pena di un approfondimento di un attento approfondimento che è stato fatto appunto sia da Anoscia che da Braga e che ha portato alla definizione di una nuova famiglia cioè la scoperta sostanzialmente di una nuova linea evolutiva che poi non ha avuto sviluppi anche attuali ma per quanto ne sappiamo noi ha avuto il suo sviluppo soprattutto durante l'eocene e l'oligocene e qui vediamo le foto al microscopio ottico fatto nel lavoro dove è stata presentata e qui valeva la pena di fare un'altra curiosità e siamo negli anni 80 sono gli ultimi anni in cui la descrizione ufficiale della nuova specie viene fatta in latino oggi ormai in latino non si usa più però come in botanica che è rimasto anche oggi e anche per l'enterologia fino appunto a una quarantina di anni fa le descrizioni venivano ancora fatte in latino e da nosce su questo si è impuntato in modo particolare perché appunto troverete io immagino già i briozoologi inglesi o americani quanto ci hanno stramaledetto perché hanno trovato la descrizione in latino e non in inglese come ormai pian piano si stava avviando insomma perché in fondo anche i naturalisti in qualche modo cercano di evolversi un'altra parte importante degli studi di Piero è quella di andare a ricostruire le ricerche precedenti andare a ritrovare i ricercatori dell'ottocento che avevano fatto i primi studi in questo caso su Briozoide e il Trentino ritrovare gli slide i vetrini originali rivedere un attimo per capire meglio cosa avevano visto e come poi gli studi successivi sono andati avanti è un metodo di ricerca oggi non sempre molto seguito che è quello di ricordarsi che la paleontologia è una scienza storica e come tutti i campi delle scienze e c'è anche una storia umana all'interno perciò quando si viene a descrivere cose nuove bisogna sempre descrivere tenendo presente quello che è accaduto prima in modo di poter dare e capire anche come ci si è arrivati a queste cose in fondo se vogliamo il vecchio discorso di Galileo che diceva io non sono più grande di Aristotele però sono sulle spalle di Aristotele perciò vedo più in là se io posso fare determinate cose le posso fare perché c'è stato prima degli studi precedenti che mi hanno aperto questa via perciò su questa via ci si insedisce e si si sviluppa poi vediamo cose un pochettino strane e c'è quante persone negli anni del secondo dopoguerra hanno trovato tra Altino Grado e Raclea qualche resto romano e questo è la bocca di un'anfora romana che è qua depositata nella parte archeologica del Museo di Rovereto e naturalmente ci serviva Piero Braga per dire sia un'anfora romana però è ingrostata dal canopeo Serrauti della Scrizoporella Arata cioè da due briozoi tipici delle lagune che si sviluppavano tra Grado e Ravenna insomma ed è un modo particolare di collegare archeologia e studi attuali quello che non siamo riusciti a portare cioè non è riuscito a sviluppare nel 13 2013 dopo aver appunto sviluppato i briozoi del Trentino e quelli del Veneto si era iniziato a cercare di studiare o di vedere quello che si poteva studiare sui briozoi del Friuli Venezia Giulia i briozoi eocenici terziari del Friuli Venezia Giulia in pratica non esistevano cioè c'era sì qualche lavoro di qualcuno che aveva detto sì ci dovrebbero essere ma non c'era stato nessun studio e la zona di Rossizza ci sembrava una zona ideale per fare questi studi e avevamo iniziato sia a vedere le forme incrostanti coralli di Rossizza e sia a cercare di vedere se riuscivamo a trovare associazioni di briozoi collegate purtroppo le campionature non sono state molto fruttuose e perciò il lavoro si è limitato ai briozoi incrostanti di cui qua vediamo un esemplare e invece un colpo di fortuna se vogliamo mio ma di sfortuna di Piero è stato che lui aveva studiato per tantissimo tempo i briozoi con forme libere come le batopole le lacrimole che qua vediamo di cui aveva ricostruito anche il sistema di vita insomma come si ancoravano come si muovevano e aveva supposto che ci doveva essere un qualche collegamento proprio in Friuli tra le forme veneto-trentine e le forme del bacino di Vienna quel collegamento non l'avevamo mai trovato è capitato per caso qualche anno fa quando i parentologi fiolani studiando i pettini degli echinidi di Pozzuolo vicino a Udine hanno visto tra i sedimenti qualcosa di di strano e avevano tra le mani proprio la russirella di Genry che è una forma che si evolve all'inizio dell'Eleocene che è tipica del bacino di Vienna e che invece era presente almeno per questo periodo limitato dell'Eleocene anche più a sud cioè diciamo dimostrando quell'idea che aveva Piero di collegamento tra i due bacini almeno per qualche momento c'è stato e questo è almeno una prova mi spiace che sia arrivata troppo tardi e Piero si è anche dedicato ad altro sugli studi di Briozoi ha avuto anche le capacità e la voglia di fare anche queste bibliografie di avere dei dati che possono essere utilizzabili e fruibili a tutti come si vedrà un attimo in seguito dove qui non parlo però invece due parole lasciatemelo dire che abbiamo anche qua il volume con i volumi se qualcuno appunto li gradisce del rapporto dell'interesse che c'è andando a vedere un monumento una chiesa un palazzo e vedere i batteriari di costruzione che sono stati usati non siamo più sul Braga biozoologo siamo sul Braga geologo che c'è quel rapporto tra pietre di costruzione e architettura che caratterizza moltissime delle nostre città lui ha pubblicato i suoi passeggiate padovane tra arte e geologia sarebbe bello se riuscissimo a fare qualcosa del genere anche qua a Rovereto o nell'area circostante e diciamo è avviato un nuovo tipo di ricerca con interessi anche discreti insomma che in qualche modo abbiamo cercato di portare avanti anche nel veneziano infine un'immagine di Piero Braga con Michele Vettorelle che è stato un laureando che ha dovuto sopportarci tutti e due e immagine sulle dormiti ricordando che se i depositi sono marini e se la vita è presente grazie ai brozoi potremo conoscere il clima l'habitat l'ambiente di vita le situazioni che in quell'epoca c'erano che sia paleozoica mesozoica o cenozoica ci permettono di vedere tutte queste cose e con questo passo a parlare grazie 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 professor Bizzarini e su questa sua frase finale di Fabrizio è che vorrei condividere con voi una come dire una suggestione una visione che ho condiviso col professor Braga e quindi raccontarvela velocemente come abbiamo visto i brusidoi sono animali che vivono organizzati in colonie e dalle forme più fantasiose e sono state proprio le loro forme da tirare l'attenzione di un primo paleontologo Stasch che per primo comprese la loro importanza anche nel settore paleoambientale si accorse infatti che l'abito zoariale muta largamente in relazione ai fattori ecologici principalmente attraverso l'idrodinamismo la profondità del mare la natura del sustrato e poi anche della luce della temperatura della serenità e del tasso di sedimentazione per questo nel 1936 descrisse nove forme zoariali e soprattutto ebbe il merito di riferirle questo non fu un merito perché dopo vedremo che ai chielostomati vedremo come anche altri ricercatori le abbinano anche ciclostomata ma di dividere e di accorgersi che questi due grandi gruppi avevano forme da una parte stabile e da un'altra parte instabili cosa vuol dire? Vuol dire che le forme stabili sono in grado di sviluppare un solo fenotipo zoariale specializzato e quindi adattato solo a particolari situazioni ambientali gli zoari di tipo instabile invece presentano una notevole variabilità morfologica e l'evoluzione continua tra forme rette e forme incrostanti è come dire alcuni di questi animali avevano un genotipo che si esprimeva fenotipicamente solo in una forma è come dire mi vesto sempre uguale e sono adatto a vivere o nei mari del sud o a vivere al polo nord e altri invece che cambiano vestito a seconda del clima questa è stata una intuizione importante nella storia di questo film e ovviamente significativa risultava soprattutto la risposta fenotipica riferita all'idrodinamismo cioè alla corrente di come si muovono le correnti all'interno appunto dei mari fattore principale nella deposizione dei sedimenti ed elemento principale anche nelle ricostruzioni ambientali quindi questa parte qui fu diciamo il merito nel 36 di Stas ma subito dopo la seconda guerra mondiale negli anni 50 e negli anni 60 molti altri ricercatori continuarono ad approfondire questo tema perché fu un aspetto interessante e cominciarono a quindi Laga Igo Tie Prudoma altri insomma a aggiungere e a far capire anche che questo aspetto era anche abbastanza facile da riconoscere all'interno della paleontologia non occorreva un paleontologo esperto che andava a studiare nel dettaglio la specie era un patrimonio che poteva essere usato anche dal geologo che aveva bisogno di ricostruire l'antico ambiente quindi partono tutta una serie di riflessioni e vedrete come anche negli anni 60 anche Piero Braga è attirato da questa cosa e è anche attratto dalla semplicità sostanzialmente alla fine degli anni 60 si cominciò a confermare e poi negli anni 70 sempre di più addirittura dei morfotipi di base cioè a dire non mi interessa neppure le forme zoriali non mi interessa che tipo di specie sono ma sappiamo che ci sono delle forme che sono erette e rigide ci sono delle forme che sono articolate ci sono delle forme libere e ci sono delle forme incrostanti questo con quattro semplici concetti sono facili da intuire chiunque lo può può accorgersi anche uno che non è un paleontologo e quindi su questo ci si poteva avviare per fare in modo di ricostruire il nostro passato il passato della nostra terra gli antichi ambienti e voi sapete che conoscere bene gli antichi ambienti serve anche per conoscere bene quello che succede oggi e gli ambienti di oggi ecco quindi che anche nel nostro museo nasce questa visione di poter in qualche modo contribuire a questo parte e qui vedete un esempio di alcune di queste forme che vi dicevo instabili con dei nomi che sono stati adesso non mi dilungo tanto ma diciamo nei membrani poliformi nei licchiano poliformi negli scariformi ma anche i vincolariformi hanno questa caratteristica cioè cambiano d'abito a seconda di come è l'ambiente e cambiano quindi in funzione soprattutto dell'idrodinamismo e la dottoressa Zandonai prima bene vi ha anche accennato al fascino di questi animali perché ispirano anche i costruttori cioè anche i nostri architetti costruiscono tenendo conto che c'è una forma e una funzione che questa forma è legata ecco diciamo forse in alcune occasioni meglio i briozoi che gli architetti capiscono questo concetto e quindi questi animali avevano delle forme della loro colonia colonia anche molto ve lo diceva prima Fabrizio molto specializzate con aviculari con vibracelle con zoeci si chiamano specializzati a fare determinate cose esattamente come nella nostra società quindi un pochino la nostra società come costruisce anche le case per ripararsi esattamente come fanno molti di questi briozoni ed ecco qua gli altri invece i reteporiformi i cellariformi i cateneceriformi i lunulitiformi che sono forme libere mentre gli altri sono forme articolate cioè che si lasciano anche sbattere dalle correnti che come per esempio sul litorale sono di direzioni contrarie come il motondoso va e viene e quindi sono legati anche per esempio alle alghe e quindi possono anche delle volte sopportare una leggera per esempio sedimentazione proprio perché questo effetto di essere sbattute le libera anche dal piccolo sedimento eccole qua quindi questi due raggruppamenti e questi raggruppamenti prendiamo per esempio i membrani polmi praticamente stanno a indicare un tipo adatto in una zona litorale o sub-litorale dove la sedimentazione è quasi nulla in acque profonde le percentuali sono molto basse quindi parte in questi anni prima ripeto diciamo Stas ma poi negli anni 60 ma soprattutto 70 e 80 tutta una riflessione di analisi comparata andiamo a vedere come si comportano questi animali nel passato e cioè scusate come si comportano adesso per andare a capire molto probabilmente quelli anche del passato che probabilmente si comportavano più o meno nello stesso modo e cioè andavano ad occupare nicchie ecologiche simili a quelle che attualmente occupano gli stessi animali i vincoli a riformi invece sono queste colonie erette solitamente attaccate a un substrato solito e questo gruppo è adattato a una vita in acque profonde riparate dall'azione delle onde e dove è assente l'azione delle onde non si sente insomma e le correnti sono poco attive alcuni autori ecco citano proprio anche le profondità nei mari attuali dell'Adriatico a Nizza a Napoli nelle Baleari per esempio nel delta del Rodano ecco in molti di questi casi c'è tutta una documentazione bibliografica importante e qui capirete poi perché anche con Piero questa visione di avere le bibliografie di questi dati diventerà interessante l'altra è il rete per i formi quello che abbiamo visto prima quando Fabrizio ha mostrato delle sertelle queste reti hanno questi zoari calcificati in maniera forte fenestrato reticolato saldamente attaccato al substrato queste colonie prediligono zone sublitorali con forte azione delle onde e delle correnti che riescono a vincere grazie alla robustezza e alla fenestrazione dei loro zoari cioè costruiscono anche le dimensioni di questi fori in funzione anche della velocità della corrente i cellariformi sono invece colonie rette flessibili sono articolati si attacca al substrato con apparati radicali e questo tipo è adattato a una vita nelle zone litorali dove le alghe offrono abitualmente la base per attaccarsi esso può resistere anche a un modesto come vi dicevo prima portoterigeno associato alla sua crescita e alla grande flessibilità di questi uno dei problemi quando si studiano questi è che quando si disarticolano una colonia è fatta da tantissimi pezzettini ma è sempre una colonia ecco si è visto poi che anche questo aspetto non muta però i dati anche se possono venire sovrastimati i cateni cellariformi sono esattamente simili a quelle che abbiamo detto ai cellariformi e vivono sostanzialmente praticamente negli stessi habitat in aree litorali con una profondità massima di 40 metri infine ci sono le colonie sferiche cilindriche allungate a forma di ventaglio dove anche Piero qui vedete la lacrimula perfetta o la stenosipola protetta che avete già visto che ovviamente addirittura Piero su questo anche disegnò proprio nel 1980 come questo briozò viveva come forma libera come si attaccava e qui lo vedete nella sua posizione di vita cioè stava praticamente attaccato con il cono verso la base ed ecco allora qui la riflessione l'avete visto velocemente in quello che ha mostrato prima Fabrizio nel 79 Piero Braga fa il primo suo lavoro assieme pubblicato su studi trentini di scienze naturali riferito proprio all'interpretazione di un'area trivigiana no follina del significato paleoambientale utilizzando le forme zoariali nello stesso anno praticamente noi col museo e quindi Antolini avevamo osservato che in questo territorio di intorno di Roveretto la presenza dei briozoi non era poi così rara come veniva indicata e non era solo legata a quegli interventi fatti alla seconda metà dell'Ottocento da Waters che tra l'esto avevano mandato gli inglesi avevano mandato i campioni e Piero Braga aveva studiato proprio questi di Arthur Waters che aveva praticamente indicato come località il Montebaldo Novezza e soprattutto dopo diceva anche Ronzo Chienis in realtà noi abbiamo scoperto che i briozoi in tutta quest'area del Montebaldo e in tutti i terreni eocenici e oligoceni erano molto abbondanti tanto vero che nasce la nostra collezione proprio negli anni Ottanta nel 1980 la pubblichiamo e ci sono circa il primo nucleo di 150 esemplari che vengono poi conservati e che provengono da questi terreni nasce quindi subito l'idea di dire ma perché allora per il terziario non è possibile fare una ricostruzione paleoambientale ed è qui la visione che nasce con Piero di poter portare avanti la possibilità di fare delle interpretazioni paleoambientali utilizzando questo lui fa un primo lavoro sulla parte trevigiana l'altro lavoro nell'84 lo porto avanti io personalmente andando a vedere questo lavoro dell'80 e stimolato da Piero su questa questione siamo andati a trovare due affioramenti che adesso ve li mostro sono questi due indicati con M1 e P1 uno nella zona di Besanio Crosano sostanzialmente l'altra tra Ville Valle San Felice e Pannone sullo stesso questi letti di Marne a Briozoi poggiavano sullo stesso letto di biocalcareniti a numuliti dello stesso livello perché è datato con i foraminiferi bentonici soprattutto i numuliti e quindi erano perfettamente correlabili queste due quindi e una cosa molto singolare è che la tannatocenosi cioè l'insieme di tutti i fossili presenti e trovati nel lavato erano perfettamente identici una volta quando descrivevano i geologi descrivevano queste marne e le chiamavano marne a Briozoi perché trovavano tanti Briozoi ma poi descrivevano che c'erano fenomeniferi bentonici c'erano alghe c'erano frammenti di echinidi c'erano bivalvi c'erano brachiopodi e se noi andiamo a vedere la tannatocenosi dei due sedimenti è perfettamente identica questo ci ha fatto pensare di dire questo è il caso bello per vedere se effettivamente i Briozoi dicono qualcosa in più se io vado a vedere i Briozoi con quelle forme zoariali e con queste riflessioni che in quegli anni sia Cole che Armelin nel 75 tal 75 all'85 stavano pubblicando continuamente esempi questo era la prova si può dire per vedere se effettivamente avevamo questo valore aggiunto questa informazione in più e allora guardate questi sono i Briozoi che noi troviamo vi faccio notare solo un aspetto è importante anche nella paleontologia capire che quel fossile viveva esattamente lì cioè che è autoctono perché voi sapete che un animale potrebbe vivere da un'altra parte poi la corrente lo porta lì lo fossilizza da un'altra parte ma quello è un fossile all'octono noi qui invece capiamo che questi sono tutti autoctoni vivevano lì sono morti lì esso sono fossilizzati lì proprio per la qualità la precisione la bellezza e per altri aspetti anche paleoambientali e allora ecco cosa succede contando il campione M circa 500 e l'altro 800 Briozoi e vedendo cosa succede vedete che anche uno che non è paleontologo non è avezzo dice e no sarà tutte forme uguali cioè sono presenti le stesse specie ma se noi andiamo a vedere il campione M praticamente dominano i vinculari formi ho solo una forma sostanzialmente variale e poi sostanzialmente abbiamo un po' i lunulitiformi e i membranipoliformi se vado a vedere invece a Pannone ho una grande diversificazione percentualmente a scapito dei vinculari formi e quindi la faccio breve questo ha portato a dire che in realtà questi due ambienti anche se in linea d'aria erano abbastanza vicini sono 5 km in linea d'aria tra diciamo Crosano e la parte bassa di Pannone e Valle San Felice però cosa ha portato a dire ha portato che l'antico mare quello che si formava circa 40 milioni di anni fa in quei antichi mari con la commissione tra l'attività eruttiva terziaria e la sedimentazione normale aveva creato anche degli habitat che erano leggermente diversi e che da una parte avevamo forme diciamo più legate all'aspetto litorale alla correnti molto forte ma anche questa grande diffusione a creare dei piccoli micro ambienti come descriveva che spesso succedeva e qui c'è un bel lavoro di Cole che mostra come i briozoi sanno occupare queste piccole nicchie diverse e sono legate proprio a questi ambienti litorali e leggermente sublitorali dall'altra parte invece siamo in un ambito totalmente sublitorale cosa nasce? e qui nasce la visione che abbiamo portato avanti per anni assieme con Piero Braga e dire ma perché allora noi non appoggiamo il paleontologo anche con l'aiuto della matematica e di alcuni dati il paleontologo come vi dicevo dice ci sono foraminiferi bentonici ci sono foraminiferi plantonici ci sono bivalvi gastropodi e tutte queste per ogni campione qui vedete un esempio che poi come diceva bene la dottoressa Zandonai abbiamo applicato anche ai nostri studenti delle scuole medie e scuole superiori perché questo è un esercizio carino che però vi fa dire come si fa a confrontare due serie dei campioni dove io so solo c'è non c'è c'è non c'è vabbè come faccio a dire quanto vale la similitudine tra questi campioni se voi vedete due di questi sono identici quindi il 2 e il 3 sono identici allora uno dice beh sono identici quindi se io metto una scala da 0 a 1 è chiaramente il campione 2 e 3 è 1 massima similitudine perché sono identici ma gli altri l'uno e il 4 il 4 è tutto diverso quindi è 0 ma l'uno quanto vale quello di similitudine ecco allora che tutti ci fermiamo e spesso la paleontologia si basava più sull'impressione del paleontologo che magari si lasciava suggestionare dalla piacevolezza di vedere una forma zoariale piuttosto che un'altra allora abbiamo detto perché non creiamo un software che aiuta i paleontologi e che può ricostruire il paleoambiente creiamo un gruppo di lavoro assieme a sia un matematico valente molto bravo che era Michele Bianchi che ricordiamo sempre con affetto perché morì giovanissimo e subito dopo aver sviluppato qualche anno dopo aver sviluppato e presentato al paleobentos questo prodotto e un giovane diplomando che poi si è diplomato e si è laureato in informatica ragazzo dell'IT Marconi che noi abbiamo seguito e lui ha sviluppato un software che si chiama come vedete Brio altri in questi sei lo chiamavano Braio e Mario Manfredi praticamente abbiamo introdotto delle metriche come è questa che è molto semplice di DAIS che anche i nostri studenti fanno come attività didattica e praticamente si va a contare le presenze si vede il doppio delle coincidenze e allora si vede che l'uno per esempio con il due e il tre ha dodici presenze totali e otto coincidenze stessa cosa anche con tutti gli altri matrici quindi la presenza di ogni specie c'è un numero e dire nel campione 1 c'è la lichenopera sì no e così via fatto questo è chiaro che da qui arriviamo a quelle che in Italia per primo portò avanti Poluzzi un altro biozoologo dell'Università di Bologna e con i quali ci siamo confrontati e lui ha parlato di queste matrici di similarità ma soprattutto lui ha introdotto un'altra cosa intelligente che anche noi abbiamo copiato in questo nostro software anche se avevamo aggiunto altre cose abbiamo copiato l'idea che una distribuzione possa essere casuale quindi il rapporto tecnico Q su Q max serviva per indicare se la distribuzione dei valori che noi abbiamo sono distribuzioni ordinati oppure sono dei campioni che sono casuali e qui vedete ecco un sim di cluster analisi dopo il software anche proponeva al paleontologo di fare un raggruppamento e qui lo vedete il campione 1, 2 e 3 è più simile il campione 4 è differente dai primi 3 questo lavoro praticamente finisce dopo 4 anni di riflessione nell'88 lo presentiamo e soprattutto Piero Braga va in Giappone a Sendai al Salof Tetis dove presenta a livello internazionale questa visione questa idea perché non usiamo questo che è fatto da piccolo museo del nord Italia e non lo usiamo per acquisire anche perché aveva un sistema di archiviazione dei dati e poter archiviare tutti i dati sui briozoi che l'utilizzatore poteva utilizzare gratuitamente però lasciava in parte anche la conoscenza dei dati pensate farlo adesso tramite la rete sarebbe molto più facile senza dover mandare il software una confusione perché stiamo parlando di vent'anni fa quando ovviamente è la preistoria si beh diciamo lo presentiamo nel 91 ah si trent'anni fa appunto trent'anni fa quindi ancora peggio no perché e questo è il software che vedete alcune videate che vi ho stampato e era una complessità ma soprattutto il paleontologo poteva rappresentare sia la distribuzione spaziale sia anche quella in sezione praticamente cronostratigrafica e poi quindi con vincoli diversi perché se i campioni sono uno sopra l'altro doveva esserci questo vincolo e dopo vedete lui che proponeva anche c'era la possibilità come dicevo di affidarsi anche alla banca dati e allora qui capite perché con Piero che un'altra attività lo ricordava bene non solo come geologo come valente rilevatore ma anche come uno che ha lavorato nell'università soprattutto per le memorie soprattutto con i vari professori dal Piaz che si sono alternati alla direzione di quel dipartimento di quell'istituto era anche un sostenitore delle bibliografie regionali e un coordinatore delle bibliografie regionali da parte del CNR e quindi curò sia quella del Veneto quella del Friuli ma anche quella del Trentino Alto Adige e poi noi attivammo una bibliografia geologica che attualmente presenta nelle nostre server più di 40.000 voci e abbiamo detto ma perché non presentiamo anche delle banche dati specifica mondiale non solo regionale non solo nazionale non solo di interesse ma anche sui briozoi e questa aveva questa finalità la visione di fare in modo e qui lo presentiamo nel 2001 sempre anche assieme a Danoscia che ha lasciato al nostro museo tutta una serie di lavati estremamente interessanti sul Nord Africa in Sardegna ma insomma anche altri che andrebbe la pena proprio per arricchire questa banca dati sia di ricostruzione paleoambientale ma anche questa banca dati di informazioni scientifiche sono circa 5.000 le voci bibliografiche dei briozoi nel 2001 nel 2002 stampammo il lavoro fino agli aggiornamenti che con Piero portammo avanti assieme fino al 2010 quindi questa è sostanzialmente la visione e il lascito testamentale di questi due grandi paleontologi e anche geologi sia Enrico Anoscia che Piero Braga che lasciarono al nostro museo un patrimonio che è un patrimonio da utilizzare per il futuro per il futuro per le informazioni che altri poi ricercatori verranno e avranno l'occasione di trovare una base informativa e alcune idee per anche fare in modo che il museo sia il luogo dove poter fare riflessioni sulla costruzione non solo dei paleoambienti ma conoscere anche le evoluzioni future grazie alla conoscenza del passato grazie mille il presidente fava chiede a me di chiudere lo ringrazio ringrazio soprattutto volevo arrivare volevo ringraziare innanzitutto i nostri relatori perché questa presentazione non solo ha tratteggiato il professor Braga la sua passione come noi lo vedevamo anche qui in museo con Rosanna e nelle sue attività di ricerca ma appunto poliedriche e però ha fatto ha dato una forte ricostruzione di quella che è anche la situazione di ricchezza di materiali che abbiamo del nostro territorio e non solo nelle collezioni del museo civico di Rovereto materiali che in parte sono studiati materiali che in parte vanno organizzati anche per avere una visione complessiva e renderli disponibili realmente anche ad altri ricercatori e adesso invito appunto la signora Braga a portare il suo intervento la ringrazio devo dire grandi cose io devo ringraziare veramente il museo di aver fatto questa serata chiamiamo perché è stato un momento anche particolarmente interessante per me che sono una geologa mancata cioè sono geologa ma non ho mai fatto la geologa e avendo sentito queste due relazioni mi ha riportato alla mente anche tante cose che abbiamo fatto assieme con Piero cioè io praticamente portavo al martello i sacchettini e lui raccoglieva i vari 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 per esempio in Turchia per esempio non so in altri viaggi che facevamo sempre ne facevamo molti assieme e quindi dopo lui mi spiegava mi raccontava cioè io io ho sempre avuto lezioni di geologia durante il matrimonio quindi ho potuto poi anch'io a mia volta quando facevo i miei viaggi di piacere raccontare alle persone il perché il per come il per cosa delle montagne che vedevamo e quindi questa serata è stata veramente emozionante bella sono contenta e ringrazio tutti di questo evento grazie